Questa è la sintesi del video di oggi. Scusatevi ma non ho resistito, è più forte di me, non sono il solo, voglio dire, Putin in questi giorni è una calamita per ogni tipo di prese in giro e meme, insomma, e poi religioso com'è, secondo me l'accento veneto è perfetto su di lui. Allora, a parte gli scherzi, iniziamo con gli aggiornamenti di oggi, giorno 8 dell'operazione speciale dell'Ucraina in territorio russo. Quello che possiamo dire è che la Russia sostiene di aver fermato l'esercito ucraino. In realtà non ha fermato proprio niente, gli scontri continuano e gli ucraini sono presenti nell'area di Belgorod ormai e continuano le incursioni. Vi passo alcune immagini di questi giorni, tra l'altro questa foto di gruppo per esempio era proprio vicino a Kursk l'8 agosto, ma ne vedremo altre durante il video. Questa animazione che vi presento ricostruisce quello che è accaduto in questi 8 giorni di invasione da parte ucraina della Russia. Ieri, tra l'altro giorno 12, Putin ha avuto una bella videoconferenza con i vari ministri della difesa e il governatore della regione di Kursk, Alexei Smirnov. Quello che è accaduto è singolare e ve lo mostro integralmente e poi lo commentiamo. Quello che è accaduto è che Putin inizia la conferenza con il suo interlocutore, con Smirnov chiedendogli come stanno andando le cose nella regione e il governatore gli ha iniziato a parlare dei problemi, dicendo che la situazione è complicata, che ci sono 28 insediamenti sotto il controllo del nemico, che è ormai arrivato a 12 km in profondità su una linea di 40 km. Ok, vabbè, a parte che non è molto aggiornato, però voglio dire a quel punto Putin lo blocca immediatamente e gli dice, no, aspetta, il dipartimento militare ti farà un rapporto più dettagliato di quanto in profondità e larghezza. Parlaci invece della situazione socio-economica e degli aiuti. Ok, insomma, questa videoconferenza è l'ennesima farsa, oppure secondo me qualcosa non ha funzionato nel copione. Allora, dato che abbiamo sia Putin che Smirnov, vi invito a notare le loro reazioni. Putin ha una postura chiusa, con le braccia chiuse e le mani a chiudere. Quando il governatore inizia a parlare, Putin corruga la fronte e lo censura letteralmente, ce lo blocca. La mia idea, almeno quello che ho pensato, è che non vuole che il governatore parli di queste cose in televisione e poi stringe le labbra nella classica manifestazione di stress a cui siamo abituati. Signori miei, fra l'altro, se riuscite a recuperare un libro che parla di cinesica, che è la scienza del linguaggio del corpo, su come interpretarlo, vi assicuro che è una lettura molto interessante. È chiaro che non possiamo sapere cosa sta pensando Putin, però il linguaggio del suo corpo è un libro aperto. Guardate nel frattempo la reazione di Smirnov, ve la faccio vedere più volte. Si commenta da sola, c'è proprio un gesto di stizza. Voi che dite? Per quanto riguarda poi la regione di Belgorod, il governatore Gladkov ha chiesto ai cittadini di abbandonare l'area vicino al confine con l'Ucraina e ha anche affermato che le autorità non possono garantire la sicurezza dei cittadini dell'area. Questa è una notizia di appena sei ore fa, tra l'altro. Sono arrivate poi altre informazioni anche dal generale delle forze armate ucraino, Sirsky, che ha parlato di una conquista di mille chilometri quadrati di territorio russo. Ovviamente questo non è dimostrabile. Io penso che saranno la metà, così detto francamente. Comunque, fra ieri e oggi continuano ad arrivare report e video dell'area urbana di Succia. A proposito, vi ringrazio per le correzioni sulla pronuncia, davvero vi ringrazio di cuore. In particolare ringrazio un caro amico che mi ha scritto anche un messaggio, che dire è bello sapere che molti di voi parlano russo o ucraino, oppure avete parenti o mogli che lo parlano. Io non posso dire altrettanto, non conosco nessuno in casa che parla questa lingua, però ecco, se un giorno la Russia dovesse cercare di invadere il Giappone una seconda volta, a quel punto potrei mettermi in pari con la pronuncia. Per tornare al cammino, comunque, e non divagare, Putin ha affermato che adesso tutte le energie della Russia si concentreranno nello scacciare le forze ucraine dalla regione di Kursk, ma di questo ne parleremo meglio fra poco. Continuiamo con parlare di riunioni. Anche Zelesky ha avuto le sue, ha incontrato i suoi. In questi due articoli ci sono infatti i suoi resoconti. La cosa più importante, il comandante in capo, Olexandre Zelesky, ha riferito sulle nostre azioni difensive sul fronte e sulle nostre operazioni nella regione di Kursk. Siamo grati a tutti i soldati e comandanti per la loro resilienza e le loro azioni decisive. Fra le altre cose abbiamo incaricato il ministro degli interni, altri funzionari governativi e il servizio di sicurezza ucraino di preparare un piano umanitario per l'area delle operazioni. E questo penso che sarebbe fantastico se l'Ucraina iniziasse a dare aiuti alle regioni invase. Davvero una grande idea. Nell'altro articolo successivo ricalca questa idea. Fra l'altro, questo viene segnalato anche da più fonti e fra l'altro anche da Jason Smart in questo articolo, gli ucraini hanno un problema logistico in questo momento. Nella regione russa di Kursk affrontano un problema logistico chiamato prigionieri. Cioè hanno talmente tanti prigionieri che hanno difficoltà a smistarli. Nessuno si aspettava che ci sarebbero stati centinaia di prigionieri. Per lo più si tratta di coscritti che si arrendono senza combattere. E questi devono essere documentati, video registrati e trasportati nei campi di prigionia che devono essere preparati e ricevere un gran numero di persone contemporaneamente. Quindi la logistica è veramente al limite. Fra l'altro, questa è una cosa che ho visto in molti video che ovviamente non vi posso mostrare. Però, ripeto, per quello che ho visto in questi video, una cosa che mi ha fatto veramente impressione è notare come i soldati ucraini si prendono cura dei soldati russi feriti. Cioè li vedi curarli, mettergli delle bende. Addirittura c'è un caso in cui, non ve lo posso mostrare, oddio, spero che il video non venga demonetizzato, posso mostrarvi un fotogramma. C'è un momento in cui dei soldati ucraini accerchiano una casa, all'interno ci sono soldati russi, alla fine l'assalto va a buon fine, i soldati russi sono gravemente feriti e c'è un soldato ucraino che letteralmente salva la vita a un soldato russo con il laccio, come si chiama, per evitare che muoia di sanguato alla gamba. Insomma, queste scene mi hanno colpito perché, voglio dire, no? Cioè, non si vedono tutti i giorni. E ripeto, sono i video che ho visto, non possiamo dire che questo avvenga sempre, però, insomma, fa onore a questi eventi che posso testimoniare di aver visto. Andando avanti, sappiamo che, per esempio, c'è stata una piccola colonna di ricognizione ucraina che è stata colpita da attacchi dronici russi, è caduta in un'imboscata. Ovviamente questo avrà un enorme impatto mediatico in Russia, la decanteranno come una vittoria. In questo video, fra l'altro, si vede il momento dell'impatto del drone e i soldati ucraini poi sono riusciti a scappare, a abbandonare il mezzo e scappare nella boscaglia. La situazione più a sud, invece, sul fronte del Donbass a sud-est, possiamo dire che i russi hanno ripreso a spingere, con più determinazione. La mappa di Deep State è stata aggiornata, ci mostra come in questi due giorni i reparti russi sono riusciti a guadagnare terreno fino alla periferia del villaggio di Origia. Zelanne, invece, un chilometro più a sud, sembra ancora contesa. Poco più a nord, la famosa New York, dove i combattimenti durano ormai da due mesi, la città è sempre spaccata in due, divisa in due, ma i russi sono riusciti a chiudere un poco l'area dei campi a Tigua, a est, quelli famosi campi aperti con i filari di alberi, che sono stati teatro di numerosissimi attacchi dronici in questi giorni. Poco più a nord, scusate, presso Chasivyar, anche questa città famosissima perché vi si combatte da mesi ormai, non si segnalano progressi da parte russa da giorni e il fiume è tornato a essere un ostacolo naturale insormontabile per i russi. Sembrava nei giorni scorsi che ci fosse stata instaurata una testa di ponte, ma la situazione è rimasta invariata ormai da una settimana. E lo stesso vale per gli altri posti. Un poco più a nord si segnala un piccolo avanzamento di poche centinaia di metri, ma questi sono i cambiamenti su tutta l'area invasa dai russi in questi due anni. Allora, per finire il discorso su questi aggiornamenti, è interessante notare come il 488esimo reggimento motorizzato è sparito l'11 agosto per apparire, poi con la mappa aggiornata, nella regione di Belgorod. E lo stesso vale per le altre tre brigate che vi mostro. Quindi, sì, abbiamo una conferma del movimento di quattro brigate russe spostate dall'area del Donbass, e poco più a nord del Donbass, fino all'altra zona, quella dove gli ucraini hanno invaso Kursk. Quindi queste iconcine ci mostrano come queste quattro brigate sono state prese e spostate a nord. E questo è già il risultato che gli ucraini volevano ottenere, quindi vedremo come si avvolverà adesso la situazione. Ora, prima di salutarvi, spendo due minuti per una rettifica, perché ho fatto un errore nell'ultimo video parlando di soldati ucraini che utilizzavano uniformi russe per le loro incursioni nella regione di Kursk. Dietro vostra richiesta, ho riverificato la fonte e purtroppo non è andata bene, nel senso, l'unico articolo che ho trovato viene da Repubblica, scritto da Gianluca Di Feo. Ora, a causa vostra, siccome non ero soddisfatto, perché non mi fido dei giornali italiani, lo sapete benissimo, a causa vostra, per poter leggere interamente questo articolo, perché era pagamento, c'era scritto due minuti di lettura, voglio dire, Repubblica ti scrive anche quanti minuti di lettura devi fare, come se rubassero il tuo tempo, ma scusate, leggere è un piacere, scusa, no? Cioè, non capisco, comunque ho dovuto pagare un abbonamento a Repubblica di un mese, che ho disdetto immediatamente, senza offendere nessuno, perché ci saranno anche tantissimi bravi giornalisti a Repubblica che ci lavorano, per carità, però non era mio interesse farci l'abbonamento, volevo solo leggere quell'articolo e me ne sono pentito subito, perché c'è un annuncio grande come la casa, il titolone, no? Una notizia che se è vera rappresenta, è fondamentale, è di grandissima rilevanza, dire una cosa del genere, perché usare false bandiere e uniformi è un fatto gravissimo che viola tutti i trattati internazionali, me l'avete detto anche voi nei commenti, però voglio dire, non è una cosa che non è mai successa, è successa tante altre volte nella storia, voglio dire, io l'ho dato un po' per scontato, perché in situazioni di emergenza e crisi, quando c'hai un esercito che ti invade, non ci sono regole, il problema dell'Ucraina, per l'Ucraina tutto è lecito, è stata invasa, quindi per quanto mi riguarda può fare qualsiasi cosa, tranne ovviamente crimini di guerra, intendiamoci, però, no, comunque a prescindere, usare false bandiere e uniformi è un fatto grave che viola i trattati internazionali e l'Ucraina non può permettersi questo, perché comunque ha bisogno degli aiuti internazionali, ha bisogno delle autorizzazioni per usare le armi e gli equipaggiamenti che le vengono forniti. Quindi, ho cercato all'interno dell'articolo e l'unica cosa che ho trovato pur leggendo queste cosiddette righe, le parole necessarie perché il giornalista possa essere pagato a scrivere il giornale, è questo trafiletto, ve lo leggo, in cui dice l'unica certezza è la nebbia di guerra, ok, the fog of war, ok, questo è per dire quando non sai bene cosa sta succedendo, quando non hai informazioni di intelligence, questo termine è un termine vecchio che si usava ai tempi in cui non c'erano satelliti, non c'erano droni, non c'erano radar, non c'erano aerei di sorveglianza, non c'era niente. Oggi parlare di fog of war è un po', un po', diciamo, a limite, borderline, perché di fatto non c'è più una vera e propria fog of war, al massimo si tendono, le notizie tendono ad arrivare un po' in ritardo, però, bene o male, si sa quello che succede. Quindi lui dice l'unica certezza è la nebbia di guerra, che avvolge tutta la zona degli scontri e rende difficile trovare notizie confermate. Questa è la premessa. Si parla addirittura di squadre ucraine, condivise e mezzi russi che compiono sabotaggi dietro le linee sul modello dei commandos tedeschi in uniforme americana, guidati dal generale nazista Otto Skorsany durante la battaglia delle Ardenne. La voce ha avuto ricadute concrete, alcuni convogli dei rinforzi russi sarebbero stati fermati a lungo dalla polizia militare di Mosca che sospettava fossero infiltrati i nemici. Ok, vi lascio cinque secondi per per meditare su quello che avete che vi ho appena detto e proviamo adesso a rileggere tutto quanto in una forma diversa, ditemi se vi torna, ok? perché secondo me c'è qualcosa di profondamente sbagliato in tutto questo articolo, cioè qualcosa non mi torna. Cioè proviamo a leggerlo così. L'unica certezza è la nebbia di guerra che avvolge tutta la zona degli scontri e rende difficile trovare notizie confermate. Si parla addirittura di squadre ucraine con divise e mezzi russi che compiono sabotaggi dietro le linee sul modello dei commandos tedeschi in uniforme americana guidati dal generale nazista Otto Schorseni durante la battaglia delle Ardenne. Insomma, questo è secondo me lo stile. Poi posso sbagliarmi, per carità, magari è un bellissimo articolo, però come la vedo io c'è una grande faziosità perché citare un generale nazista se non hai la conferma di queste uniformi, voglio dire, no? Qualcosa non torna. Sto scherzando, per carità, però la prima cosa che ho fatto dopo aver letto questo articolo è stato commentarlo e ho chiesto se ci sono delle fonti per dire che gli ucraini si travestono da russi o è stata una licenza letteraria. Ovviamente non ho avuto nessuna risposta fra le altre cose quindi un altro dettaglio non poco importante è di non lasciarvi fuorviare dalla foto perché come potete vedere non è una foto di Repubblica cioè non è la foto di un reporter di Repubblica non è una foto interna è stata presa dal web cioè in questi casi è facile basta prendere scaricare la foto sul computer e poi fare una ricerca su Google per immagini e vengono fuori tutte le fonti web che utilizzano quelle immagini e quindi come potete vedere della stessa foto ci sono dozzine di altri articoli molto differenti che dicono cose diverse quindi quelli che vediamo non sono soldati ucraini in divise russe è chiaro? Quindi fra l'altro facendo un po' di controlli incrociati si riesce un po' a percepire il fatto che questi soldati in realtà hanno fatto una sosta per riparare il mezzo almeno la maggior parte delle fonti dei siti web parlano di questo quindi questo per dire che insomma scusatemi non sono affatto sicuro che gli ucraini si siano mai travestiti da russi in questi giorni e l'unica persona che lo dice è questo giornalista di Repubblica se quindi si degnerà di rispondermi e darmi delle fonti mi premetto che è meglio avere il beneficio del dubbio mentre se parliamo invece dei mezzi rubati dagli ucraini ai russi e che poi hanno usato ce ne sono tanti di video ci sono tantissime testimonianze che mostrano come gli ucraini hanno usato di 72 e mezzi russi per scorrazzare in giro nella regione di Kursk e questo diciamo lo hanno fatto perché lo possiamo dire è stato documentato ci sono tanti video foto eccetera poi se dobbiamo parlare dei trattati internazionali come sappiamo la russia non la batte nessuno in questo caso poi per restare sul tema è pieno di fonti che testimoniano dei cosiddetti omini verdi russi senza bandiera in crimea e donbass a partire dal 2014 voglio dire ci sono le foto ci sono le testimonianze le inchieste e anche dopo nell'invasione della russia sul suolo ucraino l'esercito russo non si è fatto scrupolo di mandare centinaia di soldati avanti e catturare le posizioni strategiche sul suolo ucraino indossando divise tarocche vi mostro questo sito che ha fatto una bella inchiesta e ha accolto documenti foto e testimonianze vi passo il link se vi interessa in queste foto si vedono proprio i russi che si travestano da militari ucraini mentre assaltano le posizioni ucraine con equipaggiamento vario eccetera eccetera in violazione delle usanze di guerra insomma questo è grave ci sono diversi casi eccetera eccetera poi anche alcune testimonianze di soldati russi catturati tante fonti insomma questo si possiamo dirlo quello che posso dire io sinceramente che la mia impressione mi fa molta tristezza perché no è l'atteggiamento russo nell'invasione da vigliacchi voglio dire no per citare i filorussi di noi altri non solo i russi avevano meglio l'esercito più grande e numeroso del mondo l'aviazione più potente del mondo i missili 200.000 mille milioni di carri armati avevano anche bisogno di giocare sporco in questo modo non lo so e dopo due anni stanno ancora lì insomma comunque dai come sempre non voglio lasciarvi con la mano in bocca per concludere vi mostro un paio di foto questa foto è semplicemente bella ed è il 12 agosto proprio ieri dei residenti ucraini che protestano nella regione di Belgorod fra l'altro questo signore non so chi sia magari voi potete dirmelo ma ha una congiuntivite cronica proprio mentre Putin parla allora le cose sono due o Putin sputa quando parla oppure questo tizio avrà passato una terribile notte in bianco e poi c'è quest'altro video che è fantastico perché è lo storico di tutte le fandonie proposte dai media russi in questi due anni e mezzo almeno alcune figurati migliaia devo essere onesto alcune di queste frasi sono state esattamente le stesse identiche frasi che qualcuno ha scritto nei miei commenti nei mesi scorsi in questi giorni frasi del tipo in questa in una guerra aperta sconfiggeremo l'Ucraina in due giorni non c'è storia Kiev verrà presa così velocemente un giorno e mezzo massimo tre giorni due giorni e la città cadrà alzeremo un sopracciglio e l'Ucraina si accorgerà di tutto prenderemo Kiev l'Ucraina non ci combatterà mai questa sarà la nostra ultima guerra frase profetica fra l'altro non più di tre o quattro giorni e non ci sarà più nessuno lì a combattere contro di noi c'è proprio delirio di onnipotenza questo e poi il menu del ministro della difesa Shoigu sveglia alle 6 toiletta alle 7 colazione alle 8 beato lui che si sveglia e fa colazione alle 8 si sveglia alle 6 e fa colazione alle 8 attaccare l'Ucraina alle 9 pranzo a mezzogiorno catturare Kiev a luna del pomeriggio poi il concerto della vittoria alle 6 del pomeriggio e i fuochi d'artificio alle 9 la presentatrice qui commenta dice l'unica cosa che manca è la data ma a parte questo questo menu non è così lontano dalla verità ok e poi poco tempo dopo queste brillanti dichiarazioni che a confronto tipo il tempo che fa cos'è no una trasmissione su Raidu del pomeriggio l'Italia sul 2 sembra tipo quinto potere di Sidney Lumet questo dice chi è stato a tirare fuori la tesi per cui la Russia avrebbe preso Kiev in tre giorni beh l'altro dice beh grazie a Dio l'operazione antiterrorismo del regime è stata dichiarata ho viaggiato avanti e indietro con un fucile dal fronte nessuno mi ha fermato ho camminato attraverso le città incontrando vecchietti e tornando indietro non c'era nessuno lì insomma stava dicendo letteralmente che le truppe russe avrebbero avuto campo libero in Ucraina e oggi lo stesso personaggio ma a suo giro un poco meno spavaldo e dopo mezzo milione di soldati che qualcosa sul territorio russo hanno incontrato dice questa forza ucraina è piuttosto seria sono truppe regolari quelle che sono entrate nella regione di Kursk sono truppe regolari sarebbe sconveniente dire che sono entrati ma li cacceremo subito fuori beh perfetto e poi dice dobbiamo avere una prospettiva sobria della situazione yeah anzi no scusa forse sarebbe meglio continuare a bere vodka va bene amici e per oggi è tutto mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e lasciatevi un mi piace un abbraccio alla prossima grazie a tutti